Per la prima volta nella storia recente di Civitavecchia, la popolazione straniera residente in città ha superato la soglia del 6%. Stando ai dati forniti dall'ufficio Stato Civile del Comune di Civitavecchia, alla data dello scorso 31 dicembre erano oltre 3.100 gli stranieri iscritti negli uffici demografici. Come sempre, la stragrande maggioranza, quasi il 60%, sono romeni, ma in città sono presenti persone provenienti da ben 98 nazioni. Gli stranieri residenti a Civitavecchia nel 2022 hanno superato il 6% della popolazione cittadina ed è la prima volta che viene scavalcata questa soglia. Lo si vince andando a snocciolare i dati forniti come ogni anno dall'ufficio Stato Civile dell'Anagrafe di Via Santarelli, che fornisce una fotografia della città assolutamente inconsueta, una Civitavecchia nella quale risiedono 3.147 cittadini stranieri provenienti da ben 98 nazioni e tra i quali sono rappresentati praticamente tutti i continenti, fatta eccezione per l'Antartide. Tra i 3.147 stranieri presenti in città, 1.664, ovvero il 52,9%, sono donne, mentre 1.483, per una percentuale del 47,1%, sono uomini. Come sempre e come ormai avviene da oltre 30 anni, la stragrande maggioranza della comunità straniera è rappresentata da cittadini romeni. Sono infatti ben 1.818 i balcanici residenti in città, ovvero il 57,8% del totale, e con un'assoluta preponderanza delle donne, 1.031, sugli uomini, 787. Tra le comunità degli stranieri, quella dei romeni è l'unica, assieme agli altri paesi dell'est Europa, ad avere una maggioranza di donne, una situazione figlia legittima delle tipologie di lavoro richieste nella stragrande maggioranza legate all'assistenza alle persone e in particolare agli anziani. A seguire, nell'ipotetica classifica della presenza straniera a Civitavecchia, la comunità cinese, composta da 87 uomini e 83 donne, al terzo posto quella bengalese, distinta tra 117 uomini e 29 donne. Seguono ancora la comunità albanese, quella marocchina, quella egiziana e quella senegalese, ben 29, infine, i paesi rappresentati da un solo residente. Un altro dato particolarmente interessante riguarda la costanza di presenza straniera a Civitavecchia. Da 10 anni a questa parte, infatti, non si è mai scesi sotto la soglia delle 2.000 unità e il trend, fatta eccezione per il 2019, quando si registrò una leggerissima flessione rispetto all'anno precedente, è stato sempre caratterizzato da una crescita. Aveva preso di mira villette nella zona del Grossetano, per poi rivendere i proventi dei furti in città. Per un pregiudicato Civitavecchiese di 50 anni è così scattato l'arresto, seguito dalla misura del braccialetto elettronico. A tradirlo, come ormai capita frequentemente, le immagini delle varie videocamere di sorveglianza. Sia al processo di primo che di secondo grado, era giudicato colpevole di aver messo a segno almeno sei colpi all'interno di villette nella campagna maremmana. Ad effettuare la misura cautelare sono stati i carabinieri che adesso hanno però avviato indagini anche a Civitavecchia, per verificare in particolare se per altri soggetti possa scattare l'accusa di ricettazione. Come detto, infatti, i proventi dei furti effettuati nella bassa maremma venivano rivenduti in città. Dopo anni di fermo, i pannelli informativi sulla situazione dell'inquinamento, presenti a Civitavecchia e in altre realtà del territorio, torneranno a funzionare. L'anticipazione arriva dal presidente del Consorzio per l'Osservatorio Ambientale, Ivano Iacomelli, che annuncia l'installazione di apparecchiature diverse e più moderne rispetto a quelle cui i cittadini erano abituati. I pannelli informativi sulla situazione ambientale, fermi ormai da anni, torneranno a funzionare e a fornire indicazioni ai cittadini. L'anticipazione arriva dal presidente dell'Osservatorio Ambientale, Ivano Iacomelli, che rappresenta i comuni di Civitavecchia, Lumiere, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquini e Tolfa. Il comune di Civitavecchia ha infatti deliberato il passaggio in comorato d'uso gratuito al Consorzio dei Pannelli. I quattro pannelli che passano sotto la gestione consortile sono quelli di Civitavecchia, siti in Viale Garibaldi, Via Termini Traiano e Via Morandi, davanti al Parco Oliveto, e quello di Santa Marinella che si trova in Piazza Civitavecchia e si vanno ad aggiungere ai due già di proprietà del Consorzio installati a Tarquinia e Tolfa. Gli attuali, fermi da oltre sei anni e di vecchia concezione, con sole, quattro righe da 15 caratteri, saranno al più presto sostituiti con schermi LED che permetteranno comunicazioni più efficaci e complete. È inoltre intenzione del Consorzio, che ha già preso contatti con i comuni interessati, di ampliare il sistema informativo con tre nuovi pannelli ad Allumiere, Monte Romano e Tarquinia Lido, che al momento ne sono sprovvisti. Il Presidente dell'Osservatorio Ambientale, Ivano Iacomelli, spiega che i pannelli saranno utilizzati per diffondere non solo i dati della qualità dell'aria che il Consorzio già comunica tramite l'app Mare Nostrum Lazio, ma anche tutte le altre informazioni, comunicazioni o allerte di natura ambientale e sanitaria di pubblico interesse, oltre ad eventuali comunicazioni di servizio da parte delle amministrazioni comunali. Iacomelli aggiunge che si potranno estrapolare i dati più importanti, quelli che i cittadini chiedono e pubblicarli settimanalmente, inviandoli ai vari assessorati all'ambiente per informare le varie comunità. Per quanto riguarda Civitavecchia, il Presidente dell'Osservatorio giudica il ripristino dei pannelli informativi di basilare importanza, anche perché su questi dati, con la collaborazione chiesta all'autorità portuale, sarà possibile comunicare alla città anche i valori relativi al controllo svolto dall'ente riguardante la zona del porto. Resta da capire se, pannelli informativi a parte, si riuscirà finalmente ad avere il quadro ambientale in tempo reale, al fine di poter promuovere eventuali interventi qualora alcuni degli agenti inquinanti controllati sforasse i limiti previsti dalla legge. E' arrivato ieri mattina in porto, trainato da due rimorchiatori e scortato dalla Guardia Costiera, il sommergibile Romeo Romei. Si tratta della quarta unità subacquea classe Todaro, realizzata in Italia da Fincantieri per la Marina Militare Italiana. Il sommergibile Romei è una unità di medie dimensioni, realizzata per missioni ad ampio spettro e caratterizzata dall'impiego di tecnologie innovative che permettono prestazioni molto avanzate. La processione del Cristo morto di Civitavecchia torna quest'anno nella sua forma tradizionale e senza le precauzioni legate al periodo pandemico. L'annuncio arriva dal priore dell'Arciconfraternita del Gonfalone, Davide Trotti. A partire dalle 20 e 30 del 7 aprile, venerdì santo, la processione uscirà dalla Chiesa della Stella e vedrà tutti i quadri previsti dalla tradizionale, compresi i misteretti che con la loro presenza raccontano ai bambini, alle bambine e agli adolescenti la più antica tradizione di Civitavecchia. Come sempre sarà possibile dare la propria adesione alla partecipazione iscrivendosi presso la Chiesa della Stella da oggi al 24 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 17 e 30 alle 19 e 30 e dal 27 marzo al 5 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 17 e 30 alle 19 e 30. L'Arciconfraternita, nell'intento di avvicinare sempre di più la sacra manifestazione ai concittadini, accoglierà anche quest'anno nel limite dei posti disponibili coloro che vorranno prestarsi quali assistenti al corteo e che coadiuveranno i confratelli e le consorelle nello svolgimento della processione. Anche loro dovranno iscriversi attraverso le modalità sopradescritte. Chi vuole sostenere economicamente la tradizione, oltre alle modalità già conosciute, da quest'anno potrà lasciare offerte del tutto anonime in salvadanai che saranno presenti in alcuni esercizi commerciali cittadini. Ancora una settimana più che tranquilla sul piano ambientale a Civitavecchia. Il report fornito periodicamente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha infatti certificato una situazione ottimale, con i valori di tutti gli agenti inquinanti di molto al di sotto dei limiti di allarme fissati dalla legge. Un calo generalizzato degli agenti inquinanti è ancora più rilevante rispetto a quello già notevole della settimana precedente. È questo in estrema sintesi il bilancio del nono report del 2023 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale per quanto concerne l'inquinamento rilevato a Civitavecchia attraverso il controllo delle risultanze prodotte dalle 14 centraline disseminate nel territorio urbano. Nel periodo compreso tra il 27 febbraio e il 5 marzo, cui si riferiscono i dati pubblicati sul sito istituzionale di Arpalazio, i livelli delle diverse sostanze inquinanti controllate sono stati tutti notevolmente al di sotto dei limiti di legge. Nello specifico riguardo i biossidi di azoto, il cui valore massimo fissato dalla normativa vigente di 200 microgrammi, la media è stata di 20 microgrammi al porto, di 32 a Villa Albani, di 16 in via Morandi e di 40 in via Roma. In tutte e quattro le centraline i valori sono stati non solo nettamente al di sotto di quelli del report precedente, ma vicini ai minimi storici. In discesa verticale anche i valori del particolato, ovvero del PM10, con una media di 11 microgrammi rilevati al porto, praticamente la metà del report precedente, e di 14 nella centralina di Villa Albani. Per il PM10 il limite massimo è fissato a 50 microgrammi. Stabile il valore del monossido di carbonio in via Roma, rimasto a 0,7 microgrammi. Il monossido è stato invece ancora in discesa nella centralina di Fiumaretta, dove è stato misurato a 0,9 microgrammi contro gli 1,2 del report precedente e gli 1,4 di quello relativo alla settimana compresa tra il 13 e il 19 febbraio. Sempre a Fiumaretta, in leggero rialzo il valore del benzene, passato da 0,4 a 0,5 microgrammi. Inquinanti in calo anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto si va dai 6 microgrammi di Aurelia e Sant'Agostino, ai 9 del Faro, ai 13 di Fiumaretta, ai 15 di Campo dell'Oro e San Gordiano. Per il particolato si va invece dai 9 microgrammi di Aurelia, ai 10 di Sant'Agostino, agli 11 di Fiumaretta, Faro e Campo dell'Oro, per finire con i 14 di San Gordiano. Calano infine anche i livelli delle polveri ultrasottili, il cui valore massimo non deve superare i 25 microgrammi e che sono state misurate a 5 microgrammi a Sant'Agostino, 6 microgrammi a Fiumaretta, 7 a Campo dell'Oro. Vittoria all'inglese per il Civitavecchia che ha approfittato anche dell'ennesimo passo falso dell'Anzio e si è portata a meno uno dal primo posto. Altamagnini e Nerazzurri hanno superato per 2 a 0 la Vis Sezze grazie ad una doppietta del solito Manuel Vittorini. Un gol per tempo per il bomber di Canale Monterano, per lui 27 reti in 26 partite, che ha segnato al minuto 12 della prima frazione e poi al quinto della ripresa su rigore. Il Civitavecchia ha avuto tante altre occasioni e non ha concesso nulla agli avversari. In classifica i Nerazzurri rimangono secondi insieme alla Boreale, ma si avvicinano alla vetta occupata dall'Anzio adesso ad un solo punto di distanza. Domenica prossima sfida fondamentale per la formazione di Caputo, che farà visita proprio alla Boreale. Stop preventivabile per la 3 e PC Civitalad nel campionato di serie B2. Al Palasport in Solera a Tamagnini le Rosso-Blu sono state sconfitte per 3 a 1 da Trestina, quarta della classe. La sfida si era messa bene per il gruppo di Luca Oggioni, che ha prevalso nel primo parziale dando anche dei buoni segnali, grazie in particolare ai 13 punti di Sorrentino, ai muri di Baffetti e dai servizi efficaci della giovane Vitangeli. Successivamente le ombre però sono tornate a dimostrare il loro valore e tra momenti in cui sono riuscite a stare sul passo delle avversarie ed altri dove erano molto distanti, alla fine i tre punti sono stati aggiudicati dalle bianconere. Sempre ultimo posto in classifica per la 3 e PC Civitalad. Dopo quasi tre mesi di carestia, la Stemmar 90 cestistica è tornata a vincere, ottenendo il primo successo della gestione Gabriele Larosa. A Roma i rossoneri si sono imposti per 73 a 64 sul parquet della Tiber, che si era classificata quinta nell'altro girone durante la regular season. Un successo, quello dei rossoneri, arrivato su un parquet di prestigio e che dimostra il segnale di voglia e di riscatto di un gruppo che ha vissuto una stagione particolarmente complicata per diversi motivi. Con il successo di Roma i rossoneri si sono portati al quarto ultimo posto in classifica. Epilogo clamoroso all'IVA lottatori per la gara della Futsal Civitavecchia contro il Valencia. Dopo sette minuti dall'inizio del secondo tempo, l'incontro è stato sospeso e la vittoria sarà assegnata a tavolino alla squadra di Umberto Di Maio, perché la formazione ospite ha deciso di abbandonare il campo per protesta contro alcune decisioni arbitrali. Sul campo la Futsal stava vincendo per 3 a 1 con le reti di Mondelli, Donati e Pernelli. Dopo il 3 a 0 era arrivato il gol che aveva accorciato le distanze. Ora manca solo la matematica ai nerazzurri per conquistare la salvezza, ma è un peccato che un successo del genere sia arrivato in quel modo. Una vittoria pesante è quella che hanno ottenuto gli snipers Tecnoalt nel campionato di Serie B. Al pala Mercuri i nerazzurri si sono sbarazzati per 3 a 1 dei riders Montebelluna, di Mercuri, Lepore e Tranquilli le reti degli snipers. Viareggio vince all'overtime sul campo di Legnaro e la divisione della posta in palio ha consentito agli snipers Tecnoalt di riprendersi la vetta della classifica a 5 giornate dal termine della regular season. Ancora una vittoria per l'ipertecnica a Centoncelle nel campionato di Serie C. Al pala Galli i bianco-rossi hanno sconfitto con un netto 15 a 7 la Virtus Flaminio. Una gara subito in scia per il 7 di Daniele Simeoni, che ha chiuso il primo tempo avanti per 4 a 0 e ha poi gestito e poi rinvigorito il proprio margine di vantaggio rispetto agli avversari. 5 gol per Gianluca Muneroni, Tris per Ballarini e Moracchioli. Una vittoria che consente ai bianco-rossi di potersi mantenere in testa alla classifica. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it